Invece l'Italia secondo te è più tollerante per quanto riguarda le LGBT oppure all'estero sono più tolleranti? Sono sicuramente più tolleranti all'estero e potrei dire però anche più menefreghisti, questa è stata un po' la delusione con l'Austria in particolare del fatto che tantissime cose se ne fregano e arrivato poi in Inghilterra mi rendo conto che praticamente anche qua il problema grosso del mondo è quello di sbatterse di tutto, vivacchiare, dare la colpa magari ai poteri forti, ai massoni ed è un atteggiamento troppo diffuso un po' ovunque, credo che sia il grosso mare del mondo e per il resto no, diciamo che a Innsbruck c'era questo caffè che ho conosciuto io a Torino, non avevo mai frequentato ambienti gay un po' perché mi svevano di ghetto, un po' perché io non ero gay e ho fatto solo poi qualche giro negli ultimissimi mesi nonché il Gay Pride del 2014, ho fatto un giro così e praticamente a Innsbruck c'era questo caffè che ho scritto fuori Homosexual Center che io dicevo in Italia ve l'avrebbero bruciato dopo due giorni, e vabbè comunque e poi quindi la gente lì più o meno era abbastanza, ancora leggendo i giornali adesso diciamo che attacchi se ne vedono molto pochi a Torino, ancora due settimane fa, c'è stato quello che voleva partire per il gioco